Non rinnego sicuramente le idee, gli ideali che sono stati il fondamento della Liga Veneta, della Lega Nord. Poi una scelta che guarda anche a una situazione in evoluzione di un centro-destra che è allo sbando, che ha bisogno di riferimenti e sicuramente Flavio Tosi in questo momento diventa un riferimento importante di quello che è l'obiettivo di un centro-destra di essere veramente alternativo. Noi vogliamo che ci sia la possibilità di riconquistare soprattutto quell'elettorato incerto, quell'elettorato che non aveva più voglia di andare a votare perché c'è una nuova alternativa e l'obiettivo è quello di vincere, non di far perdere qualcuno, di andare contro a qualcuno.